Una vita spezzata all'età di soli tre anni. Si chiamava Crissi, il bambino deceduto nello schianto che si è verificato domenica sera in superstrada intorno alle 19. Il piccolo stava viaggiando a bordo di una Hyundai Atos alla guida la mamma. Deborah Bisbocci, trentenne di Fossombrone, che all'altezza del restringimento della carreggiata per i lavori sul ponte di Sant'Ippolito, non è riuscita a frenare in tempo e ad evitare l'impatto con l'auto che la precedeva. Una Lancia Delta, che a sua volta si è scontrata con una Fiat Panda. Un tamponamento violento, che non ha lasciato scampo al bimbo catapultato contro il sedile anteriore. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento e non è chiaro se Crissi fosse legato regolarmente al seggiolino. Quando sono arrivati i soccorsi, giunti in ambulanza da Calcinelli e nelle ambulanze ad Ancona, il suo cuore aveva già smesso di battere. Strazeanti le urla della mamma, udite dagli automobilisti rimasti bloccati sull'arteria e ignari di quanto stesse accadendo. Un'immagine terribile, la disperazione, lo sgomento negli occhi dei presenti e un lenzuolo bianco deposto sopra il corpicino del piccolo disteso sull'asfalto. Nell'incidente sono rimasti feriti sia la madre, che ha riportato contusioni e traumi, sia i quattro passeggeri, tutti di Fossumbrone, che erano a bordo delle altre vetture coinvolte. Trasportati rispettivamente al San Salvatore di Pesaro e al Santa Croce di Fano non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto per i rilevi di legge è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Urbino.